Sembrano delle tartarughe corazzate, è il T-Rex! È arrivato il T-Rex, raga! Il Mamboot è andato! Boom! Esploso in mille pezzi! What? Ah, sembrava un T-Rex salato, raga, eh! No! Chi cavolo è questo? Lo Spinosaurus! Oh mio Dio! No, 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 no! Attenzione, attenzione! Allerta! Codice rosso, codice rosso! Pericolo, pericolo! I dinosauri sono tornati e vogliono distruggere tutto Roblox! Roblox giocatori, ho bisogno di tutto il vostro aiuto! Bombardate questo video di mi piace perché oggi Bella Faccia cercherà e proverà a difendere tutto il nostro mondo! Perché oggi ragazzi ci troviamo in un gioco veramente incredibile! Direi di non perdere, direi di non perdere tempo e di cominciare la battaglia! Giochiamo! Mondo dei dinosauri! Let's go! Ci siamo, raga! Oh mio Dio! Ce n'è già uno lì, è gigante, raga! Guardate che roba! Allora, direi di giocare da solo per cominciare! Ma perché mi sei questo qui? No, voglio giocare da solo! Voglio giocare da solo! Non voglio giocare con te! Che dopo io so come fate! Mi abbandonate, come sempre! Allora, scegli una mappa! Direi il cimitero! Sconfiggi un livello per sbloccare il prossimo! Ok, fantastico! Quindi appena vinco sblocco il prossimo! Che è sempre più difficile poi, eh! Ok raga, ci sono! Eeeh, normale, difficile! Dai, direi normale per iniziare, eh! Raga! Raga, stanno arrivando! Guardateli! Stanno arrivando i veloci raptor! Io devo proteggere il mondo perché questi vogliono distruggere tutto! Allora, cavernicolo! Lo mettiamo qua! Bam! Vai! Tiragli i pugni! Tiragli le rocce! Eeeh, forza! Fai qualcosa maledetto! Oh mio Dio raga, dobbiamo muoverci! Forza, tirategli con le rocce! Gli dinosauri sono completamente impazziti raga! Vogliono distruggere tutto! Allora, posso mettere una torre qua per caso? Cos'è sto coso? Allora, questo è il camion! Ma perché è un camion io? Io, boh, non riesco a capire! Quanti sono? Ragazzi, sono tantissimi! Oh mio Dio, sono veramente tanti! Muovetevi a fare i soldi! Non ho abbastanza soldi! E ci credo che non ho abbastanza soldi! Dai, 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 dai che ce la facciamo! Dai che ce la facciamo! Questi lucertoloni giganti non possono andare da nessuna parte! Che cavolo! Sono le tigri con i denti a sciabola raga! Oh mio Dio, vai, 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 vai! Che sono scarsi! Sono scarsissimi questi gattoni, questi mici! Denti a sciabola, vai! Vai! Ci siamo quasi per un altro cavernicolo! Oppure per questo, per il pullman! Dai, forza, forza, forza! Loro non devono arrivare lì raga! Perché quella è la grotta dove loro possono andare nella città dopo da lì! Quindi, aspetta a me! Ok, allora, vediamo il camion! Che è sto coso? Cos'è sta roba? No, 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 aspetta! Fammi mettere il cavernicolo! Ah, il tricenatopo sta arrivando raga! Oh mio Dio, arriva il tricenatopo! Guardate come sono cattivi! Ma perché i dinosauri sono tornati e rompono le scatole proprie a me? Siete scasi! Tricenatopo, vedete? Non tricenatopo! Tricenatopo, come dico io! No, vabbè, dai Roblox, ti amo veramente! Ok, continuiamo così! Io direi di mettere questo, anche se non ho capito bene a che cosa serva raga, eh! A breve possiamo metterlo, vai! Ma che è sta roba? Boh! Lo mettiamo qua? Mettiamolo qua! Spawn? Che è sta roba? Ah, ok, ho capito! Ogni 30 secondi spawna il furgone che spara? Vabbè, così va benissimo! È arrivato! Sta arrivando il furgone! Ci siamo raga! Forza, posizionati! Posizionati che si serve una mano! E che cosa fa sto coso? Cosa fa? Raga! Ah, ma va contro i dinosauri! Ok, stanno arrivando, eh! E che succede adesso raga? Ah, un altro! Capito! Guardate! Gli va addosso, raga! È come uno scudo che li tiene lontani! Oh, così ci sta! Così direi che è praticamente top! Allora, posso upgradarli? Direi di sì, eh, questi! Quindi, ti upgradeo! Boom! Ma sembra più peloso di prima sto qui, raga! Sembra più peloso di prima il cavernicolo, eh! E ti faccio l'upgrade anche a te! Tenete alla larga quei triceratopi! Bravissimo! C'ho anche le missioni, comunque, sì! E sono veramente tante! Ma che è?! Oh, mio Dio! Sono quelli che aprono! Che schifo le branchie! Questi mi facevano paurissima! Mamma mia! E neanche da dire che sono estinti! Sono tornati ormai! Per ora la situazione è questa! Ne ho veramente tantissimi! E siamo allo stage 7 di 15! E per ora non riescono a passare! No! Chi è quello? Chi è questo? E quello... No! E' pacchi pelato! E' pacchi pelato, raga! No! E' quello col testone duro! Che dà le testate! Oh! Attaccatelo! Attaccatelo, raga! Forza! Oh! Non fatelo passare! Sto maledetto! Grandi! Top! Allora, io direi di potenziare! Vai! Boom! Questo è strapotenziato, raga! Fa un male incredibile! No! Lo steroidaptilo! Raga, devo mettere più cavernicoli, cavolo! Di più, di più! Me ne servono di più, raga! Ne ho messi tantissimi! Ne ho messi tantissimi, raga! Non passa nessuno! Non passerete! Dove... Dovreste essere stinti voi! Tiratelo su a quel volatile! Bravissimi! No! Questi sono nuovi! Mamma mia! Hunky! Sono potentissimi, raga, questi! Guardate! Con la corazza! Sembrano delle tartarughe corazzate! Il T-Rex! È arrivato il T-Rex, raga! Oh! Carno il T-Rex! 12.000! No, raga! Bisogna potenziare un po' di gente qua, eh! Bisogna potenziare un po' di gente! Tiratemelo su quel... Oh, mio Dio! Tantissima vita! No, raga! No, 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 no! Tiratelo su, per favore! Raga, troppa vita! Raga, troppa vita! Come faccio? Come cavolo faccio a tirarlo giù? Potenzia, 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 potenzia! Oh, mio Dio, raga! Dai, 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 dai! Forza, 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 forza! Potenzio tutti! Potenzio tutti! Dai che ce la facciamo! Tiratemelo giù! Tiratemelo giù a quel T-Rex! Mamma mia! Mamma mia! Dai, 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 dai! Che ce la facciamo! Ce la facciamo, raga! Ce la facciamo! Ce la facciamo a tirarlo giù! Dai! Quanto manca? Boom! T-Rexino bello! Adios! Raga, era lo stage finale? Era lo stage finale! Ho anche migliorato 50 torrette! Ce l'abbiamo fatta, è l'ultimo stage! Ho potenziato anche la Jeep, raga! Adesso ha molta più vita! Dai, che è l'ultima ondata! Forza, Jeep! No! Ma si è distrutta! Raga, il mammut! Il boss! 35k! What? Ero ai massimi posizionati! Ok, ho tutto! Ho tutto posizionato, raga! Ok, super potenziamento! Del cavernicolo! Mamma mia, raga, è potentissimo quello! Oh, mio Dio, è troppo forte! Forza, forza! Ne serve un altro, ne serve un altro! Dai, 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 dai! Raga, il mammut! Tiratemi giù quella bestia! Tiratemi giù il mammut! Sì, vabbè, ciao, non ce la facciamo! Non ce la facciamo, raga! Però sta andando giù come il burro, eh! Cavolo, questi, raga! Come faccio con questi? Come faccio? Devo eliminarli? Posso? No, non posso più! Non posso più! Vendi! 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 Raga, devo muovermi! Qui, qui, qui! State qua, state qua, state qua! Picchiatelo! Picchiatelo! Vai, vai, vai! Picchiatelo forte! Picchiate quel mammut! Continuate a tirare! Continuate! Tiratori! Raga, se la facciamo, se la facciamo, se la facciamo! Il mammut è andato! Il mammut! È andato! Boom! Esploso in mille pezzi! Yes! Ricompense! Vai, bottino! Un uovo anche, raga! Top! Quante robe! Ricompensa la statua del mammut! Guardate quanta roba! Quanta roba! Ok, torniamo alla lobby! Ok, top! Top, top! Vediamo se possiamo prendere, ovviamente, altre truppe, raga! Allora, vediamo! Drago! Qua quanto mi costa? Sì, 4,50! Allora, negozio! Vediamo un pochettino! Ah, 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 ah! Ecco qua, eh! Allora, ne possiamo prendere? Un cavolo, raga! Cioè, non possiamo prendere nulla! Cioè, raga, le monete costano un'esagerazione! Dai, lo faccio solo per voi! 2,50! Spendiamo sti soldi! Però un bel mi piace a questo video, eh! E mi compro il cecchino! Compra! Ok, il cecchino 5.000, raga! E poi con 2,33! Lo scienziato! Centro visite! Che è sta roba? Ci prendiamo lo scienziato, dai! Boom! 5.000! Cioè, mondo supereroe! Mondo anime! Cioè, guardate quanti mondi dobbiamo salvare! Il mondo della mitologia! Ma oggi, raga, il mondo dei dinosauri! Dobbiamo salvare questo! Questo, raga! Entriamo! Nel mondo dino! Vai! Da solo! Forza! Problemi nella giungla! Vai! Giochiamo a questo! Wow, raga! Ok, normale! Proviamo... Difficile! Dai, proviamo difficile! Raga! Raga, guardate! Problemi nella giungla! C'è tutto l'esercito qua! E arrivano! Allora, io direi di mettere... Proviamo col cecco! Il cecchino, raga! Guardatelo! Guardate! Li sta colpendo! Li sta colpendo, raga! No, però serve qualcuno che li colpisca di più! Raga, non fatemeli passare! Non fatemeli passare così, eh! Non ci posso credere! Cioè, me li fate passare! Cioè, raga, io non ci posso credere! Dai, un altro qua! Forza! Colpisci! Non farli già passare! Eh, vabbè! Ah, cecchino! Ma svegliati! Raga, posso sbagliato a mettere difficile, eh! Siamo messi male! No, le tigri! Non fatemele passare! Raga, il cecchino è inutile! Raga, ma il cecchino è inutile! Ho messo... Ne ho messo uno qua! Ma scusa, abbiamo i cararmati! Ma usiamo quelli! Invece di tirare le pietre! Io non riesco a capire! Ok, 97 su 100! Ancora ci siamo! Dai, raga, fateli fuori! Sparateli! Sparateli! Ok, ho già visto che farò una fine orribile oggi, eh! Farò una fine orribile! No! No, stanno entrando! Stanno entrando, raga! Sì! Vabbè! Ciao! Ho capito che ho messo la difficoltà più difficile! No! No! Sto scienziato pazzo! Con il laser li scioglie! Eh, non è male, eh! È potente! Dai, dai, dai! Non farli passare! Non farli passare! Scioglili tutti! Potenzia, potenzia, dai! Sto tenendo per ora! Sto tenendo! Allora, un altro scienziato! Direi di metterlo... Dove lo metto? Qua? Sciogli, sciogli, sciogli! Eh, ma lui passa! Lui è troppo potente, raga! Come faccio? Arrivano le macchine! Trattenetelo! Eh, vabbè, ciao! Questo, raga, mi sa che mi cava parecchio, eh, cavolo! Vediamo, 43 su 100! Ah! Che male! 28 su 100! Dai, 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 dai! Potenziamo! Dobbiamo resistere! Ok, qua ho messo una buona difesa, eh! Sì, però quello me lo dovete buttare giù, se no abbiamo perso, raga, eh! Io ve lo dico che abbiamo perso, lo dovete buttare giù, eh! Perché non riesco a buttarlo giù? Perché è così forte? Potenziamo lo scienziato! Perché è così potente? Cioè, raga, ho perso! Cioè, ho perso! 13, mamma mia! Sì, vabbè, raga, dai, ciao, però, eh! Eh, vabbè, dai! Allora, problemi della giungla, riproviamoci... No, 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 no! Ah, ok, normale! Ok, raga, stavolta normale, se la dobbiamo fare, eh! Ok, me la sto cavando molto meglio adesso, eh! Ecco, le ultime parole famose, raga! Dinosauri, state indietro! Dai, che se la sto facendo! Dai, serve la macchina adesso! Ok, è arrivato il momento dello scienziato pazzo! Guardate, con il cervello, è un cervellone! Ok, se arrivano, sono tutti tuoi, eh! E posso quasi già potenziarlo, raga! C'è una bestia sto qui! Ok, me la sto giocando bene, eh! Per ora me la sto giocando molto bene, raga! Potenziamo lo scienziato! Vai! Scioglili, scioglili! Ok, top, non passano! Dai, che siamo a 8 su 15! E questi dinosauri li riportiamo all'età preistorica! Via, via! What? Ah, sembrava un T-Rex alato, raga, eh! Ok, c'è il T-Rex! Ho messo anche due belle macchine! Non ne posso mettere un altro, ok! Sono al massimo! Raga, sono messo benissimo! Cioè, non passano! Non passano! Eh, questo sarà tosto da buttare giù, eh! Sarà tosto il T-Rex, cavolo! Nemmeno a metà sono! Proviamo con il cecco! Dai, il cecchino, raga! Potenziamolo tantissimo! Che ha una citata incredibile! Dai, 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 dai! Spara, però! Spara, forza! C'è i droni addirittura lì! Ma che cosa? Ok, dai che ce la facciamo! Lo tiriamo su, forse! Penso che ce la facciamo! Vai, macchine! Tirate giù il T-Rex! Sì! Ce l'abbiamo fatta, top! Chissà il boss finale chi sarà qui, raga! Raga, siamo al round finale! Siamo al round finale! Secondo me sono messo abbastanza bene! Ok, questi non possiamo più metterne! Nemmeno questi! Altri cecchini! Ah, massimo! Massimo tutto, raga! Quindi potenziamo a go-go tutti! Potenziamoli tutti! Oh, non voglio che ne passi nemmeno uno, eh! Potenzia anche le macchine! Macchine potenziate! Tirateli giù tutti, che sicuramente a breve arriva il boss! Prepariamoci! Non passano, raga! Siamo troppo forti! Siamo troppo potenti! Non passa nessuno! Se ne sono tantissimi di quei T-Rex, cavolo! Allora, anche la macchina potenziamo! Quello laggiù! I velociraptor, raga! I velociraptor! Non li avevo mai visti! Potenziamolo! Non fateli passare, non fateli passare, non fateli passare! No! Sono passati! Sfuoco! Bravissimi! 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 Continuate così! 10.000, raga! Il cecchino super potente, secondo me! Mamma mia, mamma mia! Ma dov'è il boss? Non arriva! Raga, dov'è il boss? Raga, stanno passando! Raga! Stanno passando! Guardate come li triturano! Da laggiù addirittura riescono a prenderli! Sono delle belve! Eh, quelli secondo me passano! Quelli secondo me passano, raga! No! No! Ma ero messo bene! Ma perché? Ero messo benissimo! Ah, cavano 10 quello! Sì, vabbè! Ciao! Ciao, raga! Ciao proprio! Allora, o li vendo e provo a fare l'impossibile! Se no ho perso, eh! Se no, raga, ho perso! Devo muovermi! Devo metterli tutti qua, raga! Devo metterli tutti qua! E potenziarli subito! Dai, dai, dai! Non fatemeli passare, per favore! Per favore, per favore! 15k, sto qui è una belva! Vabbè, era dorato quello! Come si fa? Ma dai, ma come si fa? Siamo ancora in piedi! Siamo ancora in piedi, raga! Siamo ancora in piedi! Questi sono al massimo! Sono tutti al massimo qua, eh! Anche il professore Passo! Sì, vabbè, 50k, ciao! Raga, c'è il boss! Raga, chi è quello? Oh mio Dio! No! Chi cavolo è questo? Lo Spinosaurus! Oh mio Dio! No, 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 no! Potenziamo! Dobbiamo potenziare, raga! Non fateli passare! No, non può finire così, eh! Non può finire così! Dai, macchine, che vi ho potenziato tantissimo! Brave! No, raga, sono troppi! No, abbiamo perso! Raga! Non ci credo! Sì, ma come lo tiro? Su, so, proprio! Addio, i dinosauri! Sono passati! No! Attenzione! Attenzione! Perché la macchina... La macchina è lì! La macchina potrebbe salvare la situazione! Scienziato Passo! Potenziamento 50k tantissimo! Però passano! Non passano, raga! 15 su 100! Siamo ancora in piedi! Raga, c'è il boss finale là! Raga, c'è il boss finale! Valentissimo! Ma chi è? Un drago? Raga! Red Raptor! Sì, ciao! Raga, qua è tosta! Siamo a metà! Siamo a metà! Qui è tostissima, eh! Raga, 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 raga! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Guardate, guardate! 21, 20! Dai, potenziamento macchina! Potenziamento macchina! Non fatemelo passare! 10k! 9, 8, 7, 6, 5, 1! Sì! Abbiamo vinto! Raga! Spero che il video vi sia piaciuto! Se volete il secondo episodio, fatemelo sapere che ci sono tantissimi altri portali! Da me è tutto! Ciao! Ciao!